buonasera a tutti ben trovati ben trovato team castelli che compaiono all'improvviso la spada di fuoco esatto team castelli che compaiono all'improvviso all'interno dei quali è possibile trovare come loot la spada di fuoco esatto perfetto questa dicitura mi piace perfettamente calzante buonasera marcello che arrivi dopo le 22 non ci spostiamo non ti preoccupare non penso di spostarmi ciao pietro buonasera ciao franciccio buonasera come va avete passato una buona domenica io spero di sì io ho passato un bel lunedì non una bella domenica però va bene a parte questo è un lunedì più tranquillo ecco degli ultimi dieci giorni bene allora questa sera dobbiamo continuare le nostre avventure in castelvania e se non erro l'altra volta eravamo rimasti proprio subito dopo la scoperta del di una delle abilità con le quali poi accedere a dei dei punti dove non puoi accedere normalmente ovvero il dash quello che ti permette di scivolare sotto cose le cose basse ecco qui adesso ci aspetta anche forse un po di backtracking e già mi ricordo un paio di aree che se non erro non erano raggiungibili ti sei rilassato con south park scontri di retti mi sembra una cosa giustissima per me il lunedì al lavoro è sempre impossibile aiaia perché ti si accumulano le cose perché si oppure per il fatto che devi ricominciare a rientrare nell'ottica e quindi sì quello anche una rottura perché stacchi no nel weekend stacchi quindi poi è tragica ricollegarsi ti cerca chiunque a se solo il lunedì ti cercano quindi c'è un picco di guasti oppure comunque di problematiche lunedì allora prima di iniziare come vi avevo promesso proviamo a dare un'occhiatina proviamo a dare un'occhiatina a questo giochino che ci hanno consigliato ovvero stream riders che sarebbe una cosa da fare insieme cioè è un qualcosa che a cui parteciperete anche voi però la cosa divertente è che si può fare mentre io faccio un qualsiasi stream di qualsiasi altra cosa perché in realtà poi io da quello che ho capito faccio una cosa singola tipo scegliere il boss o diciamo l'ambientazione dove giocare e piazzare l'area credo in cui voi poi piazzerete i vostri omini e poi il resto lo farete voi nella mezz'ora successiva quindi poi credo che spero che il il bot vi dia informazioni spero lo spero tantissimo e proviamo ok allora qui ci sono le quest l'armata vabbè ma queste cose magari le vediamo quando quando siamo capaci le quest immagino che per il momento non ce ne frega niente perché lunedì è proprio peggio del sole perché la gente ha avuto proprio il weekend per rilassarsi loro e quindi arrivano tutti belli carichi di problemi io direi di iniziare con qualcosa da un teschietto no visto che ci sono i teschietti un teschietto è qui e un teschietto è qui perché secondo me perché c'è la bolla forse perché ci consiglia di fare questo vabbè io faccio questo part battle vediamo oh si è arrivato il botto perfetto allora il botta vi vi ha or ora suggerito il link dove andare a mettere le cosine allora io devo trascinare il mio capitano e dov'è captain unit cioè una qualsiasi di queste ok chi trascina trascina un tank dai rasciniamo un tank qui il tank lo mettiamo tipo qua all'angolino ok bene e basta in realtà io devo mette io posso mettere solo la mia unità poi voi avete tutto il tempo per permettere le vostre durante la la live in pratica e l'unica cosa è che dovete fare il il login con il vostro account di twitch e basta you're welcome you're welcome aspetta battle planning aspetta ma che cos'è che vuol dire battle planning aiuto devo fare support melee ah devo devo anche pianificare le cose ma il boss dov'è cioè il boss dov'è in realtà facciamo così ah vedi praticamente ok quindi io sono il capitano che ne so posso mettere gli arcieri dietro i ranger i ranger dietro quindi che ne so qua e qua poi armored li mettiamo tipo qui e intorno a me assassini melee melee ma che ne so melee certo melee però dietro gli armored orelli poi che fanno non si sa vabbè io spero che poi si spostino support support direi qui penso che che faremo una bruttissima fine visto che sono io il comandante e i dagger in questa fila qui che schifo di piano mamma mia ok salva perfetto ok ora potete joinare credo che ci sia il link sì il link c'è bene divertitevi divertitevi a seguire il mio piano schifosissimo nel frattempo noi giochiamo a castlevania yeeeh allora eccoci qua come potete vedere c'è il il cronometro sotto che ci dice quanto manca e ogni volta che accade qualcosa lui lo lo scrive tipo ecco per esempio due secondi fa franciccio ha messo la la sua unità e quindi lì è comparsa la sua unità e noi intanto giochiamo e vediamo poi che succede certo se siamo in tre a giocare non penso che succederà non penso che succederanno cose bellissime ecco dunque allora fatemi ricordare la situazione dunque la situazione è questa io potrei intanto salire lì e vedere se lì c'è qualcosa da che diciamo necessiti ok che necessiti della scivolata noi abbiamo una super aia 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 oh ma quanto sei forte che cos'è perché ho messo il tank che cosa in che senso ah tu dici che mi ha fatto mettere no io credo che il piano lo puoi diciamo personalizzare tu e alla fine conviene mettere un po' tutti un po' tutte le classi intanto per per permettere a tutti quanti di di prendere quello che vogliono loro ecco poi perché immagino che ogni classe serva poi io sinceramente non so come funzioni poi il combattimento ok aio ma in teoria ci dovrebbero anche essere i suoni aspettate no i suoni in effetti dovrebbero esserci in teoria si ci sono i suoni provo a fare un tipo un suono di prova ah ok no non ci sono suoni per voi che mettete le cose ok si ci sono i suoni non ci sono i suoni per voi che inserite le unità perché giustamente diciamo lo scopo è non non disturbare lo streaming ok allora io dovrei andare lì sopra ecco questa per esempio non potevo prenderla no maledetto sembra un po' stato maso quello il mostro comunque devo dire che non hai capito cosa devi fare devi andare in quel link ti si apre tutta l'interfaccina del gioco e ti si dovrebbe aprire il campo di battaglia che ho appena creato io con la mia tattica prova di bomba e e niente tu devi mettere una una unità tra quelle lì e ci sono credo non lo so sinceramente non oh buongiorno lancia le catane mi piace vediamo un po' lanciamo le catane ma qual'era ecco vediamo un po' le catane ah beh 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 oddio devo dire che mi mi sono affezionato molto al al coso come si chiama a questo al carry il carry è fantastico perché fa male continuativamente questi ormai non mi fanno niente comunque va bene volevo andare di là ah no aspetta aspetta ho visto un'altra cosa di qua ah you are welcome era per il tank ok scusami sono un po' addormentato stasera e quindi non sono lucido abbastanza da comprendere e apprezzare le sue battute che cosa ho preso un'arma era un'arma sicuramente era questa short sword for stabbing no non ci piacciono le short sword anche se stabbing mi sa che è bello mi sa che funziona andando dietro alle persone alle persone cattive danno fastidio veramente tantissimo sti cosi ma e quindi come faccio non posso salire io cioè non posso andare su ah no mi sa che devo andare per forza di là aio e basta un po' e no dai mamma mia però ok no aio ma guarda ma siete impertinenti eh si ho capito ma fammi riprendere però eh ma questo altro non mi fa niente qui devo andare ogni 5 minuti suona per dirti che puoi mettere un'altra unità ah ah ok quindi ogni 5 minuti potete mettere unità ah ecco 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 allora mettetele eh mi raccomando perché qua se no ma guarda queste porte maleditte cioè queste colonne mettetele che se no non ah e poi praticamente si cresce come community ogni volta che facciamo fuori un boss io posso assegnarvi un loot e così voi crescerete di livello fate loot eccetera e possiamo raidare gli altri streamer tipo cose del genere ok qui potevo entrarci adesso salve vai col carry piccante è bellissimo non capivo perché guardavo la schermata sbagliata sono proprio negato ma no ma che negato su ma i mosti colpiscono il carry quindi quindi fa anche da tank cioè da distrazione più che da tank ah qui è semplicemente un ricongiungimento ok era anche la canzone dei ruppi carry oh aspetta questa è una zona nuova buongiorno carina lei che si carina ma fa male è inchinata comunque molto gentile qui mi sa che si sale parecchio ouch mi sa che mi mi fanno un po' male in questa parte del del castello tank carry esatto beh ma io faccio finta di ignorarti non posso sì intanto qui ci sarà un salvataggio sicuramente da qualche parte un po' io qua c'è un summon ma questo ma che cos'è no qua sicuramente devo fare qualcosa in genere queste queste germate così hanno dei segreti hanno dei segreti vediamo come come vi state comportando con oh vediamo un po' franciccio ha due unità e mister lo thinks ne ha uno bene bene dai voglio proprio vedere che succede dopo allora vediamo se succede un salvataggio così a occhio potrebbe esserci ecco lì c'è un boss per esempio quindi il salvataggio sarà di qua save the game ok ma iniziamo la serata subito con un boss ma sì dai vai chi sei oh salve buongiorno bene il carico che fa da te anche è stupendo aio 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 va bene non gli fa molto male comunque tutto qui sei così stupidina perché ho messo all'angolo hai finito di campare ok 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 ora è chiaro 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 con giù dipende dalla testa che porca miseria dipende dalla testa che gli mette cioè che si prende e ti fa male in maniere molto molto fantasiose no non togliti 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 perché se sto messo male così già adesso devo un attimo rivedere la mia strategia no che dite aia vediamo se ci sono altre teste oh cacchio sì ci sono forse è l'ultima questa però sì dovrebbe essere l'ultimo oddio oddio quanto fai male sono sicuro che fai malissimo aia no vabbè non ti sto capendo ma che cosa va bene puoi venire però sotto non vorrei bere la pozione perché vabbè sì la bevo dai oddio ce n'ho una però high potion posso prendere questo pom dai dai ah quando ti prendo caschi facciamo la tattica del del tank appunto mamma mia no prima gira di dall'altra parte mi no va bene bene il carry la la distrae no volevo poison ci pareva madonna è tostissimo sto coso aia no niente devo devo fare le cose più seriamente che butti il carry sulla dama rinascimentale immaginarsi la scena rende il gioco piuttosto surreale abbastanza aspetta che non ho acceso il coso contatore ok ora è acceso il contatore l'ho lasciato l'ho lasciato al punto dell'altra volta quindi contiamo diciamo le morti di tutta la serie se siete d'accordo siete d'accordo ok ora cerchiamo di fare le cose un po' più è giustissimo vero franciccio non mi immaginavo allora questa basta che la metto all'angolo aia e cacchio ma ho capito no non mi ha dai non mi non mi torna indietro ok poteva andare meglio vabbè allora questo è un po' più rompino cavolo ouch no va bene ok non riesco a schivarlo beh praticamente ho fatto schifo come prima anzi forse è un po' più schifo di prima vabbè prendo la pozione dai ops ok mi sentite sì perché vedo brutti colori che palle twitch questi giorni veramente non si sopporta per niente mi vedete perché sta andando un po' malino qui sto perdendo frame rotta di collo non è colpa mia ovviamente perché qua funziona tutto boh vabbè a volte si blocca ok no twitch veramente questi giorni sta diventando ridicola porca miseria del poison ma quindi ora rimane bloccato lì ma sono avvelenato e quindi faccio la metà dei danni scusa ma sul serio ah ok ora non sono più avvelenato ma è fortino questo no ma non vorrei togliere cioè non vorrei usare un'altra pozione ma volevo un attimo volevo farlo seriamente diciamo ma io che altre pozioni ho per esempio mind up restore antivenom coffee ok eh no non ho pozioni di impotenzia o cose simili va bene però invece le soul queste qui no ho solo questa perfetto questa niente non mi serve nulla a niente ok è questo che mi rompe le scatole riesco a evitare alcune cose che fa ouch sì ma fai qualcosa ok questo qua posso scappare qui c'ho ok attenzione aglio ma il problema maggiore è che non riesco a evitarlo proprio fisicamente che è abbastanza brutta come cosa cioè stupida mi sento stupido a non riuscire a evitarlo fisicamente perché questo un dej e basta scappa scappa vedi ok beh è andata molto molto meglio dai ora il problema è lui mannaggia del poison altra volta aspetta qua posso almeno una me la sparo almeno una dai guardate oh oh ma sei fame proprio comunque anche la bastardo oh l'ho ammazzato proprio sul filo sul filissimo del rasoio allora ah praticamente collezionando le anime aumenti la forza eh alleluia mi piace molto questa cosa di aumentare i danni quindi vediamo che cosa cambia cambia che ho un pochino più di attacco un po' meno di difesa un po' più di forza un po' meno di costituzione perché giustamente questa me la aumentava ma si chi se ne frega facciamo un pochino più male quindi credo che più anime io ho e più più male faccio salviamo ok come siamo messi nel frattempo con il nostro ride avete 5 unità wow bravi ah vedi che stanno spawnando i nemici nel frattempo bello poi voglio proprio vedere come funziona ok allora dove andrei andrei sotto va intanto perché è un otaku e quindi più anime ha più fa male è giusto buongiorno ah questo è e vabbè l'altra parte no io non credo che posso fargli niente a lui no no perché neanche posso sparargli credo perché appena mi vede ah aspetta da qua potrei sparargli ah gli tiriamo una katana no vabbè ovviamente è fatto apposta dobbiamo sicuramente trovare una una abilità tipo che ferma il tempo o rallenta il tempo forse ah qui nel frattempo sono spawnati mob ovviamente wow quanto è tosta qualcuno ha messo un guerriero di livello 15 chi ma quindi mi mi trovano grazie grazie future future ranger ah quindi forse c'è tipo una schermata in cui i giocatori possono andare lì e far parte di ride di altri streamer bello start ah posso anche già iniziare perché quanto manca vabbè mancano 5 minuti dai no voi posizionatevi poi vediamo comunque poi immagino che questi sono quei giochi che più ci giochi e più ottieni loot ottieni potenziamenti eccetera quindi le persone diciamo malate di loot si appassionano no 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 ma chi sei io ah meno male che siete pip perché che veramente non riesco neanche a seguirvi bellissimo comunque qua porca miseria si vabbè c'hai la la sega yo yo aglia va malissimo tra l'altro ok credo di non dover stare qui io eh non so questa impressioncina questi sono forti togliti cristo ma perché non riuscivo a togliermi infatti io quando non capivo stavo su una finestra con tutti gli streamer che dovevi scorrere per selezionare ah vedi all'inizio mi diceva di scegliere un capitano ah ok voi avreste dovuto cliccare sul mio link non vi ha portato direttamente direttamente sul mio campo di battaglia il link che c'è in chat guardate oh no secondo me sono troppo pippa per stare qui eh tra l'altro sono morto sono morto no 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 si può fare qualcosa per non farmi morire per favore no questi li odio aio 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 ok anche se ho barato un po' però l'ho uccisa è andato in una schermata dove potevi scegliere tra vari streamer ma scusa ma c'è il mio nome sul link ma che cos'è ma c'è ragione oh che strano comunque va bene tanto manca poco giusto quanto manca due minuti dovrebbe poi dovrebbe sentirsi il rumorino allora ma ma è rossa quella quella corda eeeh mio dio ho paurissima carry fai il tuo lavoro uccido col carry il carry più piccante del mondo ok oh però qualcosa l'ho trovato attenzione riesco adesso riesco adesso a camminare sull'acqua molto bene no 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 se muoio devo rifare tutto io io ho una pozione me la berrei scusate ma una una piccolina aia ho cliccato ho cliccato lì la prima volta avrò visto male e ho toccato qualche tazzo ho chiuso il reperto e mi ha dato la schermata col tuo nome ah ok ma non lo so so ma Gesù ma va a quel paese mi è caduto addosso ui buongiorno ranting con l'h davanti ranting vediamo un po' beh però con un solo attacco in meno ma ma è avvelenata direi buona no oddio quanto è bella si è diventata la mia arma preferita minchia la mia arma preferita si però adesso vediamo di non morire grazie grazie vediamo di non morire possibilmente manca un minuto ottimo credo che faccia un suono eh quando arriva a zero così lo streamer si sveglia e si va sul campo di battaglia ok di là non c'è niente vedo io andrei a salvare allora sperando di non morire non morire ti prego non morire non morire no 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 eh no scappa no 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 eccolo eccolo il rumorino ok ah poi c'è anche il bot che rompe le scatole qui ne è a posto avete posizionato la bellezza di 13 unità vai cominciamo la battaglia allora che scherziamo io qua continuo ad essere tutto rosso eh io non so che cavolo sta succedendo vabbè e spero che mi vediate comunque eccoci qua vado eh non so che devo fare sinceramente ma probabilmente fa tutto da solo bello darsh timidone darsh timidone abbiamo vinto non ci ho capito niente ma abbiamo vinto grandissimi fatevi un applauso fatevi un applauso e rispondete da soli come 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 allora qui devo scegliere quanto del diciamo del del bottino andare a voi o quanto a me ovviamente do molte cose a voi quindi poi uno di voi avrà 15 15 gold in regalo uno a caso vediamo chi è ah lo devo scegliere io e perché lo devo scegliere io random ok random e vai fatto non so cosa sia successo ma fatto ok mi sono giudicato 200 monetine mi sono giudicato anche una bellissima tizio rogue volante una skin no non credo che sia il motivo sia perché abbiamo fatto un livello un livello molto semplice comunque vabbè poi ci sono un'infinità di cose da comprare ovviamente non ho un'idea di cosa siano ma continuiamo con la campagna allora allora questo l'abbiamo fatto vedete cioè la b quindi adesso possiamo fare o questi qua o uno di questi qua vabbè ne facciamo un altro da uno così ci ci alleniamo ok stavolta stavolta io farò il il guerriero e lo piazzo qua il guerriero lo piazzo qua poi mettiamo i tank davanti poi i guerrieri i guerrieri qua i rogue qua che schifo cioè veramente una cosa schifo sto facendo a caso proprio casissimo ma mi fate mi fate capire una cosa cioè questo piano che io ho fatto vi diciamo vi limita nel senso che se voi volete mettere un tank lo potete mettere adesso solo in questa linea qua confermatemi un po' sta cosa nel frattempo noi continuiamo a giocare nome soggetta modifica lagga tantissimo credo sia la mia connessione no 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 è twitch noi possiamo seguirlo che senso ah e allora ah ok allora che cacchio che cacchio ci sto a fare io io pensavo che vi dei che vi dessi un diciamo un limite no comunque ora possiamo camminare sull'acqua ah vediamo un po' se è una cosa che devo attivare o no si devo attivarla devo attivarla attenzione non è un'abilità va bene ah ok ti segnala che che io che sono il capo voglio che voi facciate come dico io mua però però vi permette comunque di fare come volete va bene io vi giuro non ho neanche visto cosa è successo prima ma sbaglio o fa malissimo questa quest'arma mi fanno male anche loro però ok andiamo qua sotto ma non è vero che è poison comunque qua c'è qualcosa con gli specchi secondo me cos'è guarda 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 avviate la gobba esci fuori esci fuori dallo specchio vabbè qui è vuoto praticamente vabbè dovrò fare qualcosa con gli specchi ma non lo so ok acqua ah ecco 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 qua per esempio posso solo posso solo salire con questa cosa qui eh 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 aspetta però devo ogni volta ricambiare tutto potevano fare come l'altro Castelvania che aveva che aveva le le configurazioni aveva due configurazioni tu potevi switchare da una all'altra level up dai ahia io non so neanche dove sei non riesco a capirlo è una donna pure tra l'altro pensavo che era un mostrone brutto invece era una signorina gentile e delicata ok salve ricatò ok ah quella era persefone pensavo che fosse una spada animata no 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 io avevo capito che c'era qualcosa dietro ma pensavo fosse un mostrone brutto schifoso invece era una gentile donzella allora no per ora scendiamo di là oddio anche se potrei salvare se c'è un posto dove c'è vicino un salvataggio ma è un uomo ma è un uomo esatto no non c'è non c'è vabbè andiamo di là io c'è un tizio volevi volevi anche adesso sono curioso sono curioso di vedere che anima dà quel coso ok vediamo giù io cotto son di qua me lo sento si salva il cavolo pesantuccio di qua immagino che ci si riconduca ci si ricongiunga di là ecco con questa arma però ho perso lo swing cioè non posso attaccare da da sotto diciamo da sotto a sopra un po' mi manca quella cosa devo dire ma chi cazzo è questa no 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 chi sei io è una succubus mamma mia quanto è forte io cosa oh oh iron plate attenzione ah non ti ho ammazzato scusami oddio 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 la succube è un lilith oddio oddio amico 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 io quanto è forte questa allora ho trovato qualcosa questa ho trovato è è è è è si è direi di si ok ma è nuda si è la classica succubus succube quello che è insomma ok andiamo giù e non hai salutato non sei stata gentile quindi io ti ho purgato ok qui ci si ricongiunge a a quell'altra parte bene oddio scendo qua e non posso più risalire guarda col cavolo madonna stavo per fare una brutta fine ok e qui è bruttissima la situazione ragazzi non non so se volete provo a riavviare la live ma fa veramente schifo oggi io cosa di qua aspetta aspetta no di qua sotto potrei andare si un po' ah c'è una pozione ehi io fai malissimo voi non fate male per niente invece aspetti ma io ho i sushi no qua e come si chiamano i i carry usiamoli no no e dai no però non vale ma quindi non era vero ma che bastarda non era vero no voglio voglio la mia pozione adesso siete cattivissimi si è colpa di twitch si eh no ma io dico di 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 provare a riavviare la live per diciamo beccare un altro server perché magari questo che ha beccato adesso è particolarmente problematico però non penso proprio penso che sia una cosa generale perché ultimamente so che tutti gli streamer che hanno team hanno problemi vorrei 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 tanto salvare signor gioco mi può salvare per favore top floor top floor magari mi fanno salvare l'autologio a pendolo maledetti ok no qua mi ricongiungo semplicemente all'altra parte senza salvare ma perché non mi preme questo pulsante lo so che è la scusa più vecchia del mondo ma sul serio io l'ho premuto ma non è successo nulla ahhh dica colpisci l'orologio con cosa col pendolo oh dio bellissimo come va qui streamriders mancano 19 minuti e siamo già parecchi oh c'è anche un'altra persona oltre a future ranger c'è anche cash ciao future ranger e ciao cash intanto non penso che stiano stiano qui a guardare la live penso che stiano lì a giocare allora devo andare di qua palesemente devo anche salvare fatemi salvare per favore fatemi salvare au la volta mi riprometto di cercare di capire per bene cosa succede in quel gioco la qua adesso posso salire e basta vabbè qui devo trasformarmi in pipistrello sicuramente ok qualcuno ha piazzato un elicottero davvero un elicottero davvero un elicottero c'è grand mads flying rogue level 10 wow ma qua c'è gente proprio grossa ma che ci fanno qui scusa ma io non c'ho neanche l'avatar ma che cavolo account payment reference si ti piacerebbe no non me lo fa cambiare l'avatar devo ah posso praticamente solo partecipando agli eventi posso guadagnare gli avatar bene simpatico allora buongiorno vabbè voi siete stupidi tanto quindi sono di livello troppo basso e finisce troppo presto scusa ma qua come faccio col pippostrello tu dici gli incontri sono di livello si può darsi in effetti oppure come dice franciccio noi siamo degli abilissimi strateghi che non è da sottovalutare allora boh io qua non vedo nulla da fare a parte lì sotto non lo so andiamo a vedere lì sotto cioè io intendo qui qui c'è uno spazietto per entrare qui vabbè non so se magari qui posso andare a vedere ma non credo ci sia niente di particolarmente succoso e poi basta poi magari torno indietro col portale e andiamo a vedere qua sotto anche perché penso sia l'unico posto dove possiamo andare quindi quindi niente tanto qua dovrebbe essere di un livello molto basso quindi non penso di dovermi preoccupare troppo insomma di morire mazza che giro però non mi fa fare buongiorno eh sì dai sono troppo forte guarda bastardo vieni qua vieni qua voglio ucciderti beh vabbè basta dai sul cavolo allora qui sotto per esempio mi sa forza aumentata di 4 potrei fare così potrei ogni tanto venire qua a vedere quale delle due mi da più più forza per il momento questa poi a mano a mano che guadagno altre anime non ho capito però per quale motivo aumentando la forza diminuisce la difesa cos'è una non lo so mi sembra strano ma dicevo qua sotto come ci si arriva secondo voi qua sotto non ci si arriva c'è un buco di mappa no io li odio i buchi di mappa che non posso non posso chiudere tutta la provincia tutta la provincia allora guardiamo ovviamente anche se non credo ci sia proprio ultra bisogno si sta stabilizzando no ho parlato perfetto si stava stabilizzando ma è tornato tutto rosso secondo me Twitch si è dimenticata di pagare la bolletta della team e adesso si è vendicata la team guarda che belle level up proprio di quelli coatti allora sopra sopra aspetta vediamo un po' madonna questi li odio non si possono uccidere vero no dal rumore che fa decisamente no mi sa che non riesco neanche col niente non ce la faccio mi sa che ce l'avevo già provato tra l'altro ah 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 però aspetta qui posso andarci ah ah si no ci sono già stato qua in realtà quindi salve ah però potrei fare così guarda ma non ha funzionato perché non ha funzionato scusate vabbè aspetta facciamo così aspettiamo che questi voglio ammazzarli ok uno due vola 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 ecco così si fa no in realtà no però vabbè no non volevo andare qua in realtà bravo darsh mi si è piaciuto os qui ok qui ci siamo andati ok non c'è un cacchio qua vabbè ricordiamoci che fuori c'è il negozietto allora io vorrei tanto andare là sopra ma non ho capito proprio come ci si arriva Twitch che non paga il conto sarebbe il colpo è vero però qualcosa sta succedendo probabilmente è colpa di Tim a questo punto perché qua sopra io voglio andare io esigo di andare qua sopra ma non ci posso andare non c'è un cacchio da fare va bene andiamo via allora quindi qui non ci posso andare andiamo di là è anche più veloce questa sì è più veloce come arma bella bella mi piace un sacco mi piace per insomma i prossimi due tre minuti perché come succede sempre in questo gioco poi due minuti dopo appunto trovi l'arma ancora più bella ok è di qua crea un vortice di lame intorno ai nemici beh bello sotto perché non ci sono andato prima ah perché non c'è niente non c'è niente no c'è solo una strano è sfuggito proprio spada bastarda ah questa è la famosa spada bastarda che avevamo trovato e che poi siamo morti e non ho più ripreso perfetto abbiamo scoperto l'arcano va bene torniamo indietro andiamo a andiamo al negozietto la povera povera spada sempre sempre apostrofata con con brutti epiteti di qua non c'è nient'altro non ho qua non è che mi oh si mi sfugge qui tacchi e devo andare a vedere magari c'è un mondo lì sotto porca miseria babbo andiamo va fortuna è abbastanza tranquilla come zona anche il mio amichetto qui non mi fa tanta paura oh barriera protettiva gnammi barriera protettiva oddio giusto per i per i boss perché ok si questa zona me la ricordo purtroppo però adesso è molto molto semplice ma va quel paese te e tutta la maledizione tua oddio li odio quanto li odio questi ok salve ma mi ha preso allora qui sotto si salva per fortuna tanto non è che ci sia proprio bisognissimo però va bene come siamo messi con la battaglia mancano sette minuti e ci sono un bel po' di truppe wow ragazzi c'è ci sono anche ci sono tre persone esterne alla chat diciamo ah vedi che chi me l'ha consigliato mi ha detto che comunque serve potrebbe anche servire per far conoscere il tuo canale in giro perché la gente vede il nome no del canale magari gli capita di passarci di farti una visita e quindi tu hai guadagnato una persona in più bruttissima bruttissima serata per Twitch stasera sto avendo enormi difficoltà è un modo come un altro di farmi conoscere esatto anche se non credo che ci sia scritta la lingua cioè uno poi deve venire sul canale e scoprire che parli italiano e poi dice vabbè vaffanculo però magari ogni tanto un italiano capita ah eccolo libro antico numero uno che cosa farà libro antico numero uno eccolo il primo spirito è un demone dalle fiamme dell'inferno ok nome soggetto a modifica esatto penso siano tutti stranieri sì in effetti sì non credo che cioè magari ogni tanto un italiano capiterà pure nooo perché io sì ho fatto un giro di Peppe per venire qui Peppe Peppe perché mi tradisci comunque 41% non ci credo neanche se mi paghi quant'è che dura questo gioco secondo How Long To Beats How Long To Beats Area Of Sorrov dura in media 7 ore 8 ma con un picco di 14 quindi diciamo una decina una decina che per me diventano 4 live più o meno 3-4 live perché Peppe Peppe perché niente vabbè è stato tutto inutile tutto inutile sono molto deluso molto molto deluso sono molto delusos va allora io salirei no non è inutile che sto andando di qua che cosa cavolo ci vai a fare di qua Peppe perché Peppe perché spacco tutto spacco tutto e poi mi sa che cioè volendolo fare in real hardware questo gioco comunque qualsiasi gioco del GBA non si può perché non c'era una presa cioè il GBA non c'aveva una presa esterna a meno che non ci siano periferiche esterne che diciamo fungano da che attaccavi sopra no al posto della della cartuccia però appunto se l'attacchi al posto della cartuccia poi con che giochi il 3DS si però me lo ricordo però GBA e forse anche DS io lo so se si può fare in real hardware cioè se si può diciamo inviare il segnale per acquisirlo semplicemente ah ah ho scoperto che mi manca questo pezzo qui vedi va bene grazie sei meglio te ok ok vediamo il puntatore magari grazie ah ok mi sa che lì non ci posso andare o forse si si martellazzo in genere molto lento ma fa un male cane e infatti 71 però è lentissimo no io preferisco essere un po' meno ok preferisco essere un po' meno forte come danni ma beh guardate che favola sta spada e io sono un fautore delle spade ecco non dei pugnali che sono i più veloci ma quelli che fanno un po' meno male ma le spade si le catane in generale insomma i stiletti queste cose così anche in dark souls quando posso fare il la spada non a caso la spada quando posso fare il dual wielding in dark souls o in altri giochi simili io faccio sempre due belle catane allora saliamo di qua e poi ce ne andiamo a quel paese cortesemente stiamo perdendo tempo ouch qui devo andare su ma già qua devo fare ok così 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 ora vola 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 bravo e di qua ole allora ora come dicevo volevo andare un attimo al negozietto che sta qui per vendere comprare e fare cose dunque io ho come equipment iron plate e scarf il resto potrei anche venderlo volendo vediamo pozione mit ah questo no questo no questo no questo no il dagger lo vendiamo vado a bastarda lo vendiamo vendiamo no vendiamo il martello non lo venderei perché comunque magari mi può servire per un boss o per qualcosa in particolare una diciamo un'estensione anche in alto perché il vantaggio di queste armi è che puoi colpire in alto da sotto diciamo questa per esempio la venderei questo la venderei la venderei questo la venderei questo la venderei intelligenza 37 me la tengo luck proprio no scarf questa ancora che indosso ui che è madonna mia che colpi arrivo la kisharm la kisharm adesso vediamo andiamo a combattere allora ora prestate attenzione alla battaglia attenzione vediamo cosa succede ma è automatico quindi guarda quanto sono grande io vabbè ma è troppo facile così dai no senti il prossimo il prossimo lo madonna scusatemi ma purtroppo sono capitati i loro due gli unici che gli unici esterni mannaggia vabbè comunque ho preso un po' di scroll un po' di cose non lo so poi le userò le userò prima o poi io ne farei uno più forte stavolta tipo questo ecco questo da due ok stavolta io faccio il tank metto qui e prego non metto tattiche perché tanto è inutile fate come me pare giustamente ok torniamo a noi la volta sarà un po' più complicata allora lucky charm lucky charm io me lo tengo perché magari posso aver bisogno un giorno della fortuna ok ora c'ho 11.000 monete d'oro ok allora la pozione la pozione visto che costa poco ne compro un po' 2-5 poi le pozioni grandi non me le fa comprare bene quindi direi di riempirmi di queste visto che non me le fa comprare antivenom direi di prenderne il massimo sempre ma in dapp prendiamo senti io le uso per caricarmi le pozioni poi vediamo ancorz pure buonissimo allora vediamo un po' se ci sono armi tipo questa ce l'ho questa che fa questa è una katana che fa più male della mia non è quella che avevamo prima che ho appena venduto questo è un martello da guerra che fa un male ma proprio male ma aiuta ma di male proprio madonna questo fa veramente male io questo lo prenderei da usare al posto dell'hammer questa è una vabbè questa è un'arma molto affilata lancia e clay non ce ne frega niente non ce ne frega niente non ce ne frega niente queste sono le l'equipaggiamento bisogna andare da qualcuno più grosso si 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 sono d'accordo e intanto siamo passati ad uno con due teschietti quindi vediamo difesa mazza questa questa è tremenda questa diminuisce la difesa e aumenta l'attacco wow questa mi piace 69 di attacco io sono per l'attacco non so se ve ne siete accorti mi piace quella si vai e ci frega adesso dobbiamo dobbiamo metterci la cosa nuova questo e vendere l'hammer che abbiamo il warhammer e poi siamo a posto allora vendere l'hammer che ne ho due tra l'altro che abbiamo il warhammer e vendere anche me la tengo dai me la tengo perché magari c'è un boss che mi fa malissimo e mi servono quei due punti di difesa me la tengo ok pronti allora dove andiamo credo 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 che possiamo andare solo qui quindi io vado dritto e chi se ne frega quante volte ho detto credo non lo so se le avete contate vi regalo un abbonamento alla dash tv bene sbagliato ah un'altra cosa volevo fare in diretta con voi volevo prima che mi dimentichi se riesco dove stava questo volevo cambiare volevo abbassare i dove sta volevo abbassare in diretta il requisito per il suono personalizzato perché 200.000 è veramente tanto poteva avere senso quando facevo 4 live alla settimana ma adesso ne faccio 2 forse ogni tanto 3 è veramente tanto quindi se riesco a capire dove diavolo è volevo farlo adesso così magari intanto canale intanto non so se avevate già la la possibilità ma non non lo trovo attività no eccolo eccolo ce l'avevo sotto agli occhi veramente c'era certe volte ricompense allora quindi abbiamo detto che 150.000 scusate 200.000 sono troppi per il suono personale per esempio scusami franciccio quanti ne hai tu adesso perché è un bel po' che ti tengo d'occhio e mi sa che che tu sei una o anche pietro è uguale anzi entrambi ormai ultimamente ci siete sempre tu ce ne hai 50.000 franciccio e mi segui sempre wow potrei fare il suono personale 150.000 il suono da aggiungere 75.000 solo che poi non vorrei che diventino tanti poi i suoni da aggiungere quindi forse lascio 100.000 e 150.000 mi fai bere un sacco che dite 100.000 e 150.000 si può cioè diciamo accettabile perché tu mi pare franciccio hai sbloccato ultimamente no il suono potrebbe andare bene vabbè poi in caso poi in caso ne parliamo anche un'altra volta nel frattempo il ride prosegue abbiamo sempre future ranger che è un nostro affezionatissimo affezionatissimo rider e una cosa volevo chiedervi ma voi avete fatto qualcosa per crescere di livello perché io non sto crescendo di livello che cosa succede io sono sempre livello 1 mi sa che dovevo fare qualcosa tipo level up non lo so vabbè secondo me dovevo dovevo livellare però vabbè non l'ho fatto vabbè facciamo finta di niente è per dare un po' di vantaggio a voi ecco si metterò sempre un sacco ma si può fare si abbastanza in effetti in effetti abbastanza però è anche giusto sono suoni cioè sono cose che poi ci rimangono per sempre quindi bisogna sbloccare le pergamene di quell'unità per poter livellare oh ok ma devi farlo tu il livellamento oppure oppure se hai le pergamene automaticamente sbloccato il livello nuovo vabbè poi comunque vediamo oh mi ci metto un attimo con calma devo andarci tu ok bene vai credo che io debba per forza andare qui cioè non credo di avere altre possibilità ah sì 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 assolutamente qua devo andare con il coso che mi fa camminare sull'acqua ecco qua provincia di Udine provincia di Udine aspetta aspetta perché forse anche di qua si può andare in provincia di Udine ah no 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 col cavolo qua invece di andarci di andare sott'acqua che bastardi vabbè niente andiamo qui sopra quanto è bello non mi annoia mai dove va la live io qua vedo dei colori proprio rosso rosso fuoco cosa sei una coccatrice cacchio 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 togiti sì ma è il ciccio togiti ma quanto è forte il video scatto ok ok c'è un muro lì ah questi praticamente se non erro se non mi ricordo male se ti colpiscono con quella forcone ti mobilizzi e praticamente fai quello che dicono loro cioè ti fanno attaccare tipo manichino oddio questo è forte mi sa allora ti tiro un carry eh carry ma vabbè ho come l'impressione di non poter andare a destra soldi 500 wow ok eh cosa perché sono finito là sopra lo dici lo dicessero pure tanti politici italiani che non possono andare a destra ok sta succedendo stanno succedendo cose in che senso esatto stanno succedendo cose di cose spazio-temporali anzi solo spaziali displacement vabbè così però non ci capisco niente scusi signor gioco ok altri 500 grazie per carità però non è che poi con i soldi ci fai chissà quale cosa fantastica ci compri le pozioni e basta cioè salve via 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 manticora quanto è forte ciao basta va bene allora andiamo di qua visto che sei così simpatico ok ah ah non ti ho fatto neanche attaccare sono troppo forte salve non ho capito cosa sta succedendo però se ci sono oddio chi è questo invoco il potere del carry ok ok non male ma mi ha beccato il carry quello te va ah non ti piace il carry a te va bene siete pronti per domani qui ora dovrei tornare vabbè sì ok diciamo che salendo qui non so neanche dove ero dove ero ero qui allora entrando qui sbuchi qui poi a mano a mano che vai a sinistra diciamo passi per queste camere di teletrasporto prontissimo bene clock tower io speravo non arrivasse mai questo momento ma invece è arrivato graham oh ci incontriamo di nuovo sono contento di vederti illeso tranquillo beato eccetera eccetera oh mi fa piacere anche a me volevo chiederti qualcosa va bene qualcuno mi ha detto che sei tu che hai ereditato i poteri di Dracula immagino che te l'abbia detto quella ragazza quella signora insomma lì alla chiesa vero non è vero giusto che li hai ereditati tu in realtà è proprio il termine che ha sbagliato il termine ereditare ma allora è vero io in realtà sono nato nello stesso giorno in cui è stato distrutto Dracula quindi in parole povere vuol dire che io sono Dracula ma non può essere vero sei sempre stato così gentile e amichevole con me eh sì l'ho fatto perché non ti considero una minaccia alla mia missione ma detto questo visto che ti sei addentrato così così in profondità sento del potere in te non dirvelo che genere di potere si è risvegliato all'interno di te il potere di governare cosa oh birbantello è impossibile non posso rimanere qui devo devo tornare al mio trono ti chiami Soma giusto ti sbagli Soma non ti permetterò di governare ora il conte è già una minchia ma che cosa è successo è successo che taveranding come disse la sorarella no la clock tower no per favore tutto faccio tutto no tutto tutto faccio tranne la clock tower faccio dark souls bendato vi giuro comunque dark souls ragazzi prima o poi mi prima o poi impazzisco e cancello temporaneamente le serate fisse e gioco solo a dark souls mi manca troppo salve ma quanto sei forte oh ma scusate ma perché è così forte questo no 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 aspetta c'è qualcosa che non quadra c'è qualcosa no dai stavo per premere il pulsante per bere la pozione nooo e hanno fatto un buon si esatto mio dio dove dove diavolo sono ripartito Stavo bevendo la pozione Porca miseria Avevo appena spostato il dito Stupido dito che non si sposta velocemente Udine aiutami tu Oh si è stabilizzata la connessione a quanto pare Alleluia Grazie Twitch No ho parlato un'altra volta Ma perché parlo Stai zitto no Zitto devi stare zitto Talve ci incontriamo di nuovo Coccatrice Allora qui visto che ci sto Volevo provare ad andare a destra Visto che prima non ci sono riuscito Ora ci riusciamo Infatti ci sono riuscito tranquillamente Perché qual è il problema di andare a destra Oh visto che Visto che Chi se ne frega della clock tower Anzi potesse morire adesso in questo momento Facciamo che non ci andiamo Alla clock tower per il momento E ce ne andiamo a destra Ti piace l'idea A me si Anche perché c'è il salvataggio qui Bene I ripipipipipi Vabbè Ho cercato cinque volte Di saltare Ma non ci sono riuscito Qui siamo a destra Buongiorno Yeah Beccateci to carry Come va La battaglia Dai che dopo Faccio crescere anche io il mio personaggino Perché Mi sento un po' piccolo Comunque avete messo Un bel po' di Di cose Ma che faccio Inizio prima Visto che tanto è da due Dai iniziamo prima Secondo me ce la facciamo tranquillamente Dai iniziamo prima Ti dia inizio alle danze Vai Andiamo un po' Bravissimi Bravissimi Eh vedi Molto meglio così Vediamo chi vince Cash e Future Ranger Oh ma sempre loro Ma questi barano Secondo me Allora Ora Ah ecco ecco E questo qua Ce l'avevo anche prima infatti Posso upgradare il tank E basta Posso sbloccare Il flag bearer E che fa il flag bearer? Supporta le unità E le busta Bello Bello Questo mi piace Ok Questo alla prossima battaglia Faccio lui Poi che posso fare? Versus cos'è? Oh possiamo challengeare Gli altri Gli altri Streamer Ico No direi che Non siamo ancora pronti Ah ecco Qui posso comprare Proprio le cose Per aumentare Il barbaro Bellissimo Voglio il barbaro Ragazzi Quanto c'ho? 248 Healer? No L'healer per il momento Non ci serve Barbaro No aspetta Prima Prima facciamo altre cose Intanto ho fatto un po' di Di cose Di quest Ok Posso appoggradare l'arcere E anche Un'altra volta l'arcere Fine Ok pronti eh Allora andiamo Andiamo a 3 Per il momento O andiamo direttamente a 4 Che dite? Ok Posso sbloccare il rogue Dov'è? Oh è vero Eccolo Grazie Ma quante sono le classi? Sono una marea 3 o 4 ragazzi Proviamo a fare La 4 però Con Con mezz'ora piena eh Ma andiamo direttamente Alla 4 Sì Mi piacete Quando fate così I coraggiosi Dai Pronti Stavolta Stavolta potrei prendere Stavolta però il tank è utile In questo caso Secondo me Secondo me è utile il tank Perché il flag bearer Sì Vi potenzia però È a livello 1 solo Dai faccelo il tank Sempre Vai Divertitevi Ok Nel frattempo A Paperopoli Allora Ah provate un po' Vediamo se funziona Il comando Cioè Il comando Apposta Per Per mettere Così Il Il coso Dovrei metterlo Anche nella Nel titolo Eh sarebbe carino Metterlo nel titolo Bato Un posto Allora Che stavamo a fa' qui? Stavamo andando sopra Sopra Non posso andarci No 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 C'è qualcosa lì Andiamo di 4 Mi piacete Quando siete così Coraggiosi Dai No io però Questa cosa Non è che mi piaccia tanto Voglio assolutamente Prendere quello a fare lì Come posso prenderlo? Non c'era un ascensore? Mi sbaglio? Non c'era un ascensore? Ah no era di qua Mi escuso signora Mi escuso molto Ok qui dovrei Arrivarci Eccola Castle map 3 Dai Oh vedi 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 Ci sono le Le torri Poi ci proviamo Ce la posso far Ma vabbè L'ho disintegrato Poverino Gira di Ok Costituzione Aumentata di 12 Buono Buono per i boss Qui sotto Qui sotto Potrebbe esserci qualcosa Interessante No 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 Porca miseria Te della coccatrice Muori 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 Ok No 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 Vedi vedi Che mi Mi comanda come un burattino Io non so come fare A togliermi Forse è allo stesso modo Della Della paralisi Allora Sopra Attenzione E qua posso Arrivarci Ok Ah vedi Questo è l'accesso A un'altra Di queste Torri Magiche Va bene Ci sto capendo Niente Di queste Torri magiche Con sti portali Qua Stanno arrivando Sempre Le persone Esterne Di prima No C'è solo Murtor Stavolta Ma come Mi lasciate Da solo Adesso Che Che abbiamo Sfidato Il boss Da 4 Ma che palle Ma è una gioia Vabbè Ma qui non ci sono I soldi Ma che pulciare Dico a bassa voce Ma adesso È tutto verde Sono comparsi Adesso i soldi Per caso Non credo Però vado a vedere Va bene Sono entrato Da sinistra Quindi adesso Volevo provare A fare una cosa Se i portali Erano random O se i portali Erano Cioè Sti portali Sono fissi Quindi ora Dovrei tornare Esatto Perfetto Sono tornato lì Quindi sono fissi Quindi ora Continuiamo di là Ok Bene Ora sono lì Molto bene Cosa è Ma che Ma cos'è Una mandragola Ok Quindi muore Si suicida In pratica No 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 Che mi ammazzino Mi ammazzino Mi ammazzino Sono passati Dallo stato liquido Allo stato solid Allo stato soldi Ma quanti siete Vabbè Ok Lì ci sono un sacco Di soldini Ben mille Mille di qua Mille di là Cosa accadrà Cosa accadrà Cosa accadrà Neh Soldi Inutilissimi Perché tanto Le cose da comprare Sono ormai quelle A meno che non venga Aggiornato lo shop Mano a mano Che vai avanti Ma non mi sembra proprio Vediamo Visto Ok Torniamo Verso destra È tornato tutto rosso Nel frattempo Allora dove siamo Sbucati Là sopra Bene Ma chi si sono fumati Per fare sta cosa Soprattutto Quanto mi faranno male Adesso Da 1 a 10 Tanto eh Ma chi sei No ma sicuramente Sono molto Molto spronato A entrare in quella cosa Oscura Proprio Non vedevo l'ora Ah qui si salva Bene Quindi immagino Che io debba Entrare in quella cosa Oscura Emo di sì Dovevo andare a vedere Qua sopra Cosa c'era Intanto Ah C'è comunque Un'altra zona Wow Manticoro Manticoro Mi piace il sushi Manticoro Il carry Quello che è Aia Ti trasforma In una bestia magica Ah è quella là Che Bruttissima Che Cominci a correre All'impazzata In avanti Ah Aio Vabbè Io Tornerei indietro E andrei a fare La cosa oscura Per il momento Se posso entrare Aspetta 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 No 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 Me lo son giocato No Non me lo son giocato Ok Oh male Continuo a non capirci Un cacchio Di come funzionano Questi affari Comunque Ok Andiamo a vedere Se posso entrare In quella cosa Oscura E la risposta È no Ma proprio no Ci siano dei portali Dove Ma sì Certo Ai bordi Di questi Di questi livelli Sì Sicuramente Però Volevo capire Erano fissi I portali Oppure Se si spostavano In modo molto Bastardo Provato ad accendere La luce No Perché non trovo L'interruttore Oh Dai Ok Ok Questo è Nuovo Salve Proprio faccio Una cosa brutta Ah Questo lancia Il disco rotante Fico Pazzo Quanto fai male Questo è forte Forte ma pieno e pieno si fa Coldi Molto bene Ok Continuiamo Ah qua siamo Sbucati Di qua Bene Mi manca Però Quello lì Ma come cacchio Ci arrivo lì Cioè voi Dite che Se io adesso Rientro lì Lui Mi Manda a caso No Allora come avevo fatto Andarci lì sopra Ora sto qui Ora sto lì Ah si è uguale Come avevo fatto Allora arrivare Qui Per intenderci Qui Ah boh Perfetto Ecco Da qui Perfetto Ho fatto Meno male Ci sono questi qua Che fanno malissimo Non lo so Non lo so Non lo so Ah T'ho schivato T'ho schivato Oddio Questo è grosso Level up Dai Alla seconda rotonda Dovresti girare Nella prima uscita Io ho girato Alla seconda Ecco perché Guardalo Eh però sto comunque Messo male Però io qua Credo che adesso Se arrivo Se esco a sinistra Dovrei Capitare In quella casella singola Che si vede in alto Esatto No Giusto C'è la clock tower Oddio La clock tower Io pensavo di capitare qui Ma non si può salvare Per favore Io vorrei salvare Mi fate salvare Ti ho già incontrato prima Su Sei molto bravo Sei fortissimo Sì Un uomo distrutto Dalla clock tower Come va qua stream ride Oh dai dai Che c'è qualcuno C'è l'insha Che ha aggiunto Cos'è Un menestrello Eh Un rally warrior Di livello 25 E make ions Complimenti Ma io non capisco Perché questa gente Così alta Viene da me Cioè Grazie Per carità Forse per aiutarmi Voglio salvare Voglio salvare Voglio salvare Mi fate salvare Per favore Io vi salto a tutti Non me frega Oddio Questo è grossissimo Via 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 Vattene Vaffanculo No dai No Io quanto la odio La clock tower Abbiamo buone probabilità Di vincere Sì Io santo Adesso devo ricominciare tutto No è che Cioè per carità Io ricomincio volentieri Il problema è che Non ci capisco Un cavolo Questi portali Qui Qui abbiamo fatto Qui dobbiamo farlo Sì Ce lo potevano mettere Ma ovviamente Figurati Perché lancia questo Non dovrebbe Tornare indietro E ha beccato il carry Che bastardo che è No mi interessa E' noioso Ok Qui siamo Qui Non ho preso Ma l'avevo presa Ok ora Tornando indietro Dovrei arrivare Alla clock tower In teoria La pratica E' molto diversa Purtroppo Vai a quel paese Dovrei essere qui Esatto E' molto diversa Ok, arri, eccoci Ma sicuramente c'è il salvataggio Appena entri Il problema è che non riesco a superare quel pezzo Tra una cosa e l'altra Quanto le voglio bene la clock tower Tantissimo Ok Allora, scendiamo Ok, qua dovrebbe esserci un salvataggio da qualche parte Qualcuno... Ciao Soma Ehi Yoko Ho appena incontrato Graham Oh davvero? Dove è andato? Ehi, aveva fretta di arrivare al trono Come pensavo E' qualcosa di molto importante Nella stanza del trono Il trono Mi dispiace Yoko Che... Che vi succede? Così all'improvviso a tutti quanti Non pensavo che lui fosse quello che credevo Era gentile solo perché pensava che io fossi debole Capisco Ma il suo comportamento è cambiato all'improvviso Quando io gli ho detto dei miei poteri Beh, nella sua mente crede che tutto il castello sia suo Ah, quindi è per quello? Sì, ma è meglio così in realtà In che senso? Il fatto che ti veda come un nemico adesso vuol dire che Tu sei il mio amico Il mio compagno d'armi Oh, davvero? Perché non vuoi stare dalla mia parte? No, non volevo dire questo Ah E' troppo divertente stuzzicarti E prenderti in giro Ma non è... Ma non è questo il tempo di scherzare La tua presenza Ha portato... Ha gettato Graham nel panico E' la tua chance Che genere di chance? Usa la sua mente Ehm No, usando la sua mente E' in grado di evadere E' stato in grado di Di sfuggirci Fino ad ora Non credo che nessuno abbia mai visto Ehm Lo abbia mai visto in preda al panico Capito? Diciamo che è l'occasione giusta per Per farlo agire in quel modo Insomma, per approfittarne Esattamente E' un'opportunità eccellente per Rendergli una trappola Comunque devo andare Tutti devono andare all'improvviso Che palle Ci vediamo My comrade Yoko è russa Sì Com'andiamo qui con la battaglia? C'è qualcuno? Sì, sì, sì Stanno arrivando No, perché insomma Siamo... Siamo messi male, se no Va bene Di qua si va per di qua Io vorrei andare di qua Eh, perché lo sapevo che c'era questo Mi conosco mascherino Buongiorno Allora Ma tu non c'eri prima però Non è giusto Ma guardate, oh l'odio Allora Qui sotto Tanto è inutile che ci vado Perché non posso andare sott'acqua Salve Madonna Ma quando muori? Non lo so io, eh Cioè Un po' più di tempo Mettici Ok Forza Darsh Forza Per vedere a tutti Quanto sei bravo alla Clock Tower Scoppa, scoppa Ok Buongiorno No, troppo Viva il carry Chi l'ha cucinato? Tutututum Ok Madonna Quanto fai male tu Ok Ok Ah ok Queste sono Per il momento Sono solo Sono abbastanza innocue Queste teste Poi ci saranno quelle che ti Come tradizione per le Clock Tower Ci saranno quelle che ti Rendono pietra E quelle sono maledette Ecco, ecco Quella là sotto No, vabbè Ma qua Cioè Ah Ok 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 La musica è bellissima Per carità Però Il posto è tremendo Mamma mia Oh, attenzione C'è qualcuno che ha messo un Un personaggio epico Dov'è? Eccolo Epic Assassin Rogue Mamma mia Che potenza Ok Andiamo a sinistra La morte La morte No, dai No, dai Ti Cacchio Come fare il pessimista Franciscio Ma salve lei Ma quanto è grande Poi gli ti però Dash Dash Sei un coglione Però No, vabbè Questo è troppo forte Ma che palle Che ne sia valsa la pena Perché Perché Chi Col boss Quanto manca qui Due minuti Dai Faccio su Faccio partire adesso Dai Così poi il boss Ce lo facciamo con calma Attenzione Franciccio Stiamo andiamo Vai Vediamo un po' Eh, però il Quello Quello epico È andato a sinistra Forse doveva andarci lui Sul boss Eh, ho sbagliato Vabbè, no In realtà non sapeva Dove sarebbe andato il boss Comunque ce l'abbiamo fatta Hai visto? Franciccio Uomo di poca fede Vai Ha vinto Pietro E Murtor Bravi Bravi Tuttissimi Mi siete piaciuti Direi di fare l'ultimo E poi Tanto la live Terminerà Intanto Upgrado un po' di gente Dunque Upgradiamo Intanto Cos'è questo? Ah, è un coso che vuole Fa alto danno Sì, ci piace Poi Upgradiamo il rogue E basta Skin Ok, adesso possiamo andare a questo che è a quattro pallette Dai Pronti? Io direi di schierare questa volta la mia, diciamo, pedina migliore che è l'arcere E lo piazzo qui E lo piazzo qui In mezzo proprio Ok, divertitevi Ok Dunque Dove sta qua? Un po' qui Voilà Ok Ok Andiamo a fare il boss Ultima battaglia su Streamriders Che devo dire Vai a quel paese d'arsh Devo dire È carino E poi non è troppo invasivo Pensavo peggio Ok Molto gentile lei Aio 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 Ti sposti Grazie No, no, no Sono stati d'arsh Madonna d'arsh Però D'arsh Quello chiamo d'arsh Come se fosse il nome del personaggio In realtà è Soma Tomatizza Sto facendo un po' schifo Eh, però Sto studiando il boss Quindi non userò Che fa? Che fa? Ehi Ok Qua potrei usare La barriera Visto che tanto il Il carry non serve Ah, ma il carry che c'entra? Il carry è un'altra cosa Ah, questo Ah, questo fa male Vieni, vieni Aia Non l'ho vista quella Cori, corri, corri, corri Aia Che liscio Ah, ma non ruota più Cioè, è solo questa cosa delle I raggi laser qui Ah, bene, bene, bene Ok, lei l'ho uccisa Ora d'accordo a te Oh, sì Ma quanto sei grosso E' cattivo Ouch Ah, ma lei è la morte? Ok Io Ma non serve a un cazzo la barriera Ma non serve a niente Cioè, me la sto facendo Ma non serve Ma perché non serve a niente? Sì, volevo provare A ricatterare Ma vedo che è molti HP Quindi devo farla un po' più seria È una barriera È una barriera Esatto Che palle Cioè, non è più una barri E quindi Ok, l'altra cosa che ho Con le anime blu Qual è? Oppure sta barando Giusto? Beh, beh Questa potrebbe Potrebbe far male Alla signora morte E qua, per esempio Potrei aumentarmi La costituzione E qua potrei usare Qualcosa Che ha una parabola Tipo Esatto Questo qui Andiamo un po' Aio 188 Ma fa malissimo Ma fa malissimo Aia Ok, mo' t'ho fatto male No, 188 è tantissimo Allora Vai a quel paese Allora aspetto che Aspetto che Che si trasformi Che si trasformi Ho sbagliato Ho sbagliato Ciao Marcello Sto sbagliando tutto Aspetta Bevo La barriera La barriera La barriera proteggeva Un po' Ma oddio Vediamo un po' Quanto vi faccio Un sacco Si ho capito Ma spostati Aspetta Aspetta Che questo Lo faccio fuori Esatto Vieni Vieni Aio Che fa Spara Quello del coso E non riesco A schivarlo Non riesco A schivarlo Aiuto Tasty meat Ah Hai visto Riassun ciccio Che è quella bestia In cui te trasformi Ma dai È la bestia Che ha ucciso La morte Ho ucciso la morte Con la bestia Attacca I nemici Usando Attacca Attacca I nemici Usando le falci Ok Grazie Grazie Allora Marcello Quella cosa lì È un'abilità Che mi dà Un'anima Di quelle che ho preso E mi son detto Ma proviamola Vediamo quanto male fa E fa un male cane Ciuccia un sacco di mana Ma fa un male cane Allora Torniamo a tutta la configurazione Di prima Ah Per favore Spiegate Spiegate a A Marcello La cosa della battaglia Così gioca anche lui Tanto è da browser Vai lì Marcello E posiziona anche tu Le tue Le tue truppe Ci abbiamo un boss Da uccidere Ok Allora Io qua Ritornerei a La forza Certo Costituzione Boh Bo 73 è questo Fa per arrivare Alla potenza di questa Ma ancora no Solo che veramente 12 di costituzione È veramente tanto Però costituzione Credo che mi dia I punti ferita Mentre la difesa Mi abbassa La difesa In effetti Ha aumentato Un pochino Dai facciamo Facciamo questo Allora Mentre qui Torniamo con Con il carry E qui Proviamo A questo punto La falce Vediamo un po' Ah Ah si Bellissimo Considera Considera che L'ho capito Io da solo Non credo Che avrai Problemi Seleziona Darsha Ok Quindi Ti sta Spiegando Come funziona Bella Vediamo Quale Mirabolante Abilità Abbiamo Preso Perfetto Camminare Sott'acqua Molto Bene Aspetta Ho spiegato Un sacco Di pozioni Per la morte Allora Di sotto Adesso Possiamo Andare Di sotto Però Potremmo Anche Andare Di qua In quest'altra Area Di qua Io quasi Quasi vado lì Perché Più scendo E più C'è clock tower Da fare Non mi va Di fare Clock tower Come ben sapete Salve No Questa Non l'ho Questa l'ho vista Arrivare Ma non l'ho Potuta schivare Mori 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 E muori Bastardo Ah Che cos'è Pi 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 Allora Giù Oddio Sono tantissime Queste Ok Ok Qui Area nuova Ok In che senso Ah ho capito Ho capito Questa è Accessibile Solo dall'altra parte Quindi ci si accede Da qua Va bene Quindi siamo venuti Qui per niente Ora possiamo andare sotto Dai Nel frattempo La live Si è magicamente Sistemata E stabilizzata Dopo un po' di problemi Durante tutta la serata Quindi potete fare F5 E vi Riacchiappate Proprio Diciamo anche A livello di lag Perché mi sa che Con tutti quei blocchi Avete accumulato Un po' di lag Ok Dunque Andiamo giù Tanto qua Dovrebbe essere Più semplice In discesa No? Salve Ah mamma mia Ok Io salverei lì Prima di scendere Vareva Proprio quando è arrivato Colt Coincidenze? Io non credo Colt Cidenze? Ok Ok Qui possiamo scendere Dio quanto ti odio Io ti odio Veramente tantissimo Bomba 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 Iron plate Ma qualcuno ha messo Una pata Raccanto Si L'hanno schioppato Non sa quanto era alto Il suono Della bomba Mi ha stordito Devo abbassarlo Vabbè ciao Realmente mi stai sul cavolo Tantissimo Allora Qui possiamo mettere L'anima Degli mortacci Dove che stava? Underwater Eccolo qua Pensavi di fregarmi Bastardo Siamo prima a sinistra Salve Io la conosco già Ma girati Girati Soma Grazie Soma 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 No ancora Clocktower Però No 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 Io pensavo che non era ancora Clocktower Sotto ci arrivo senza ascoltarmi Non ti preoccupare Ok qua non c'è assolutamente nulla Vuoi metterti l'anima in pace? No C'è anche Marcello Ehi Eccolo Con il suo Arcere Dove sei Marcello? Ah eccoti qua Vale Ogni 5 minuti Credo che ti suoni Per posizionare una truppa Più siamo Chiaramente è meglio Ok 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 Qui si scende ancora Una bella questa cosa Che poi devo risalire Io guarda quanta roba qua Ok Aglio Somma veramente Ci rendiamo conto Di quanto la odio io Questa zona? Via 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 Oh salve Cos'è un tuxedo? Pitch black suite Cosa fa? Aumenta un sacco la difesa? Ma proprio un sacco Più dell'iron plate E l'intelligenza Wow Ok Cavolo Questa è Bella forte Per solo due punti di forza Guarda quanta difesa Mi aumenta Io mi sa che scelgo questa Mi dispiace molto Ma mi sa che scelgo questa Cioè no In realtà non mi dispiace per niente Allora Qui abbiamo fatto Mi devo risal- Adesso devo risalire Bene Oddio Dai dai Aiuto No 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 Non ce la potrò mai fare No No ma c'è un buco quelli No ragazzi C'è un buco Ma se non Dei maledetti Mamma mia Devo bere Lol Ma che lol Ma che lol Ok Ma che ne valeva la pena Cara Armatura Perché Mi pare di sì Quello che ho visto Però Level up Certo potresti anche Curarmi Grazie Grazie Marcello Gentilissimo E potevi anche Curarmi La Quel paese Volevo saltarlo Ma non si può Il carry Non mente mai No 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 Devo salvare Assolutamente Dicevo Devo giocare a Castlevania Eh mo Te becchi la Clock Tower Eh lo so Ok Andiamo a salvare Va Tu si posso salvare Mi può far salvare Grazie Molto gentile Tu proprio Ciao Ciao Non mi segue E ora come faccio A risalire Ah devo togliermi La cosa Qui Ma sbrigati Sali pure Lentamente Ok Bene Abbiamo Salvato Sono molto contento Sono molto tranquillo Posso andare Dove Ovunque io voglia Grazie Gentilissimo Anzi Visto che ci sto Vedo cosa c'è di qua Un'altra Clock Tower Ovviamente Va bene Oddio Oddio Quanti siedi No 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 Ah ok Questo è lo speculare Dell'altra parte Ok Via Rotto Ah Addirittura C'è un'altra Zona Ah no Ok No Si riallaccia All'altra Perfetto Vediamo di qua Ti sei fregato Con le due stesse armi Che pizza Ok Ah Qui c'è un bellissimo Del trasporto Molto Molto Bello Molto Bello Soprattutto Perché vorrei Comprare Le Le pozioni Grazie Mamma mia Impegnativo Che carino Ce va Ah stanno parlando Vabbè Mi se ne frega Allora vendiamo 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 Questa Questa Basta E invece compriamo Tante pozioni Una Infinità di pozioni Un sacco di pozioni Oh Hai Potion Le vendi Allora Bastardo Te ne compro Te ne compro Cinque Ti compro No Questo No Questo No Basta Ciao Grazie Ora vorrei salvare Per evitare Di dover rifare tutto Da capo Compreso il Venditore di pozioni Quindi dove salviamo Se io vado lì Se io vado lì Potrei salvare lì Però che mi sa che Non posso salire No Vabbè Cerchiamo di non morire Siete pronti? Morirò Cioè Praticamente certo A meno che Non usi Il potere Della morte Che nella Clock Tower È Veramente utile Come sanno Tutti i bambini Bravi E voi siete Bambini bravi Vero? Allora saliamo Anzi no Voglio Prima Facciamo Cogliere la mappa Che palle Voglio scoprire La mappa Di qua Perché come sapete Non sopporto Ecco vedi Qua Se scendo adesso Me la gioco Questa parte Quindi Andiamo indietro Ok 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 Qua siamo andati abbastanza benino Tu muori Tu muori No Bene Ecco il problema è qui Ah no Niente non sono riuscito Ok Non mi ricordo Se era di qua O di là Era di là Perfetto Ok Mamma mia Sono fortissimo Devo andare là Ora Sì vabbè Grazie Grazie Spontaneo Questo applauso Sì andiamo a vedere Lì sotto Che c'è Poi non credo Di dover fare Più nient'altro Qui sotto Tu proprio Ciao No Va bene Scusa Scusa Ok 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 Ti ammazzo Va bene Va bene Basta chiederlo Insomma Ah è vero C'era quel pezzo Con i pendoli Maronna Devo carmene Ah ciao Tu sei qui E un po' di carry Vabbè Ho fatto un casino Tremendo Ok I pendoli E tutta questa cosa Per Medusa Head Spero sia La cosa Più Più Forte Del Scusami Non è un'arma Ma no Medusa Head È questa Eccola Medusa Head Era il nome Della Era il nome Del mob E l'ho letto Come se fosse Come se fosse La La spada Che ho preso Invece è Burtgang Che fa un male Cane Cane E aumenta anche La difesa Leggermente Non tantissimo Ma proprio Cane Vediamo quanto è Veloce È velocissima È velocissima L'adoro Già l'adoro Vaglia Cacchius Cacchius Baby Vaglia Cacchius Baby Vaglia E fa male Ok Allora Vediamo attentamente Lì non ci devo andare Lì non ci devo andare Lì non ci devo andare Finito Devo salire E salvare Subito Quanto manca la battaglia 3 minuti Ok Allora salgo E E poi combattiamo Di là E poi direi che Vado a letto Che dite Porca miseria No no Non voglio morire Ok via Via Tu proprio Ciao 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 Colgo l'anima Lì mortacci E ci metto Difesa Abbiamo detto No abbiamo detto Che ci metto Forza No Vediamo un po' Ci metto Forza Ok Eccoci Va bene Morire per questo Coglione Non mi pare il caso No Ok Mamma mia Mezzanotte Meno un quarto Direi che Andiamo subito A fare il combattimento E poi Ce ne andiamo All'anna E salutiamo Castelvania Ciao Castelvania Grazie mille Via Secondo voi Ce la facciamo Secondo me Ce la facciamo Perché siamo Un sacco di gente Ma proprio tanti Io vado Tuore di menare Esatto Sono ricci Fanno le castagne Ha messo Qualcuno ha messo Una papera Dov'è Dov'è la papera Eccola Eccola Oh è un rogue Tra l'altro Andiamo in scioltezza Io vado Attenzione La papera è andata Dall'altra parte Vabbè Ma che cosa sono Queste micro Battagline Marcello Marcello Dall'osso Si è beccato 50 gold Bravo La fortuna del principiante Come al solito Complimenti Bene Direi Direi che è simpatico Lo possiamo continuare Tranquillamente Le prossime Le prossime volte Ok Allora Grazie Grazie a tutti Per la serata E per il supporto Ci vediamo domani Domani ci sarà Una live extra Dedicata a 999 Come al solito Io Amico Amico Però ormai Tanto Non c'è più Tanto da ammiccare Visto che lo sapete Benissimo Che cosa sarà Quindi Ci vediamo domani Per la serata 999 Cercate di esserci Soprattutto Se avete preso parte Alla Serie di live Perché Insomma È divertente E sarò in live Sicuramente Sarò in live Con voi Ovviamente Sarò in chat Volevo dire Con voi Mentre ci sarà Quell'evento Amico Amico Va bene Grazie a tutti Vi auguro Buonanotte E ci vediamo domani No Il giochino Si continua Solo quando Sono in live E lo Avvio io Quindi Per il momento I nostri eroi Dormono Mettiamola così E la prossima volta Riprendiamo Immagino che ognuno Riprenda da Dal livello suo Ecco Tanto è tutto salvato Ciao Buonanotte Grazie Grazie a tutti